You think you know me? Miracolo, davvero un miracolo, allora o ci hanno ascoltato, non è vero mai nella vita perché non ci caccheranno mai, però arriva il merge dei server, è uscito da 25 minuti della notizia, in America ce ne sono un'infinità come vedete, in Europa, faremo un piano dell'Europa, uniscono finalmente il nostro server decaduto con l'e1, perché sempre pochi, però vabbè, dai, due server meglio di uno, dalle e2 fino alle e4, e si chiameranno e2, dalle e5 fino alle e8 si chiameranno e5, e qui, diciamo, chiude la prima parte di cross server che possono trovarsi in pvp, giusto Pala? E poi l'altra è da 25 in giù, mi pare. Sì, allora, praticamente questo è il secondo merge che fanno a distanza di quasi un anno, è completa sui server che non sono stati mergiati precedentemente, quasi tutti. Ora andiamo a prendere quella dell'anno scorso, ce l'abbiamo qui di fianco, perché poi gli ultimi server invece che vengono toccati sono dall'e31 fino all'e34 in un unico server che si chiamerà e31, quindi quattro server, e gli ultimi due usciti, e35 ed e36 che si chiameranno solo e35. Forse c'è anche l'e37 che rimane da solo, anche perché è quello dove ti consigliano di entrare adesso. Ebbè, forse sì, è quello dove adesso entreranno tutti, si chiamerà così, probabile. Questo è stato fatto, quindi in data, ve lo apro, 9 dicembre, diciamo alle 14 come annuncio, e sarà effettivo dal 13 di dicembre, cioè inizieranno le procedure del merge dal 13. Se noi andiamo a riprendere, grazie a Pala, il vecchio post di quasi un anno fa, perché il 29 dicembre 2020, questo fu il primo merge. E vediamo subito che furono uniti quasi sempre quattro più server. Il primo era quattro dalle 9 fino alle 13, dalle 14 alle 18, dalle 19 alle 24, e 25 fino ai 30. Furono sempre al meno 5, no, al meno 4. Sì, effettivamente sì, non me l'aspettavo, mi ricordavo al meno 4, invece erano da 5. Quindi, adesso, prima di andare a toccare all'America, secondo voi qual è il criterio... All'America, tanto non ne sappiamo parlare, quindi non ne tocciamo. Sì, non possiamo dire granché. Ma qual è il criterio che GT Arcade segue, o Timi, segue per fare questi merge? Visto che, ai tempi, fuserò 5 server alla volta. Questa volta partiamo da 2. Guarderanno il numero di utenti che loggano al giorno, eccetera. E cercheranno che la somma dei server superi un certo limite. Pure, secondo me, si tratta di non tanto activity, cioè player attivi che fanno le cose giornate, ma che loggano. Sì, è la cosa più semplice a traccare, secondo me. Sì, anche perché se non si spiega perché io, due server, perché comunque ci credo, come nell'America non è ancora mai stato toccato l'A1, che è il server più popolato. E l'A2. E l'A2, che è probabilmente dove logga più gente, invece. Cioè, l'A1 è proprio attivo, questo lo so per certo. L'A2, non lo so. Da noi sappiamo che il Pioneer, effettivamente, le conquiste le facciamo ancora... Può darsi che l'A2, in realtà, se lo siano tenuti come riserva per quando l'A1 caverà? Probabilmente. Abbiamo fatto fusioni e rifusioni, quindi probabilmente si sono tenuti la riserva, ho detto, vabbè, l'A2, magari non è attivissimo, ma se lo tengo per... Meno morto di quello che pensate. Però, dall'altra parte, noi effettivamente nel Pioneer, almeno, avevamo comunque le conquiste sempre full, cioè, con tutte le sfodere scritte. Allora, in realtà, non è proprio così, perché da qualche mese a questa parte hanno messo un meccanismo per cui, se ci sono dei buchi, vengono automaticamente iscritte delle regioni a caso. Quindi, in realtà... In tutti i server, cioè, perché... In tutti i server, allora non ci sono più buchi, ma... Un mese fa, io c'era una foto di un mese fa delle due, dove c'erano due squadre iscritte. Ma è strano, perché ora le auto iscrive, proprio, cioè, te le butta dentro, sarà sempre una foto in una giornata. E quindi, anche noi, comunque, abbiamo delle regioni mai viste, mai sentite, che probabilmente non hanno un commander che iscrive. Però, diciamo che noi eravamo messi abbastanza bene, perché le regioni attive, comunque, almeno metà era riempire. Anche gente che semplicemente si la iscriveva per prendere i premi, ma con una certa intenzionalità c'era. Veramente che giocavano 5 o 6, sì. Sì, diciamo che comunque non eravamo proprio del tutto decaduti. Quindi, fonderci con un solo altro server, ora non so quando si attiva le 1, però, attenso. Dalle 2 alle 4 ci può stare, dalle 5 alle 8, a quel punto forse potevano bilanciarlo un po' meglio. Però, come ha detto prima Paola, o Dario non mi ricordo, non hanno toccato i server che erano stati già mergiati. Quindi, E9, finale 13, perché adesso sono tutti in unico E9. Quindi, se toccavano E9, avrebbero fuso di nuovo tutti questi server. Quindi ci sta. Ora, penso che avrebbero potuto, avrebbero dovuto fondere l'E9 nuovo con i server. Sì, sì, avrebbero dovuto fondere l'E9 nuovo e quindi sarebbe stato tipo, forse solo E8 da aggregare a quel gruppo e tutti gli altri aggregarli in due macro gruppi. Però forse non aveva senso mettere un server in più in un macro gruppo così a caso. Cioè, quello che hanno fatto a 6 sono l'unica cosa discutibile e se invece di farne 3 potevano farne solo 2. Ma mettere pezzi negli altri, no, non esisteva. No, infatti secondo me ci sta abbastanza fatto così. Ora non so dalle 2 alle 4, quello non lo so. Però mi sembra una partizione fatta abbastanza bene. Ora, una domanda che mi sorge spontanea. Ai tempi del merge, quindi il 29 dicembre dell'anno scorso, poi vennero uniti anche i server per i PvP. C'è possibilità che venga fatto anche questa volta così da avere un unico macro server per i PvP? È una speranza di tanti, onestamente sarebbe divertente. Non è detto che sia collegato. Potrebbe succedere come no, speriamo. Perché proprio nella live, nell'ultima live, quella di lunedì, la Queen ci parlava di questa problematica. Perché lì ci sono, lei e Gianluca, enormi, e gli altri un po' più normali. In conseguenza è un po' noioso per loro e immagino sia molto frustrante per chi li trova, poverini. In realtà sono solo 2, proprio, cioè, li vedi, surrendi, passi al prossimo. Però per loro non possono effettivamente, se non si trovano tra di loro non possono passare cose. In realtà la fusione guarda che peggiora le cose per i poverini. Dici? Eh sì. Perché? Perché se vengono trovati, perché quello che si lamenta di trovare Gianluca, che in effetti non l'abbiamo sentito, ma abbiamo sentito la voce di un Gianluca a lamentarsi che trova tutti i piccoli, ma il piccolo poi si trova contro i grossi dei server più bassi, più i medi dei server più bassi che sono comunque più grossi di lui. Ah beh, quello è vero, giusto, ma l'ero scordata, perché effettivamente i medio player, ma anche i free-to-play dei nostri server, è ovvio che saranno molto più grossi di quelli, hai ragione. Non ci ho pensato, perché giocando da più tempo saranno sicuramente, per forza ricordo. Le 25 e 31, quel blocco lì, che è l'utente medio più piccolo dell'utente medio della fascia sotto, cioè in realtà sono più indietro loro rispetto alle balene. Le balene riescono a compensare un po' di più rispetto all'utente medio, o peggio ancora un free-to-play, dove effettivamente la differenza di mesi sente tantissimo. No, hai ragione, è una giusta osservazione. Fateci sapere qui sotto nei commenti voi cosa ne pensate, perché comunque è una situazione un po' anomala, anche perché un annuncio, un fulminaccio del sereno, c'è una cosa positiva? Sì, perché ci lamentavamo da un po' tutti quanti che appunto i server erano un po' scarni. Questa cosa del PvP è una speranza per molti, potrebbe essere, come ha detto Dario, una condanna per altri, perché effettivamente io non ci avevo riflettuto ai poveri free-to-play degli ultimi server, che beccano i nostri free-to-play, che per forza di cose, avendo un anno in più di gioco, sono per forza di cose più grossi di free-to-play. Allora, secondo me, questo potrebbe, se ci fosse anche il match PvP, porterebbe una stratificazione un pochino diverso dei rank del Galactic, però ricordate che avete il Field of Honor, dove potete rancare comunque fino al diamante e vi vale quel rango per le ricompense che non ha le mensili. Quindi, se vi conviene, focalizzarvi a quel punto su quello e loggare il Galactic ogni tanto. Più che altro la cosa che è anche... non penso a facciare un unico blocco. Un unico blocco non lo farebbero. Spostare le 25 e sotto vorrebbe dire lasciare solo più il 31 e il 35 e il 37, cioè sarebbe veramente poca gente. Penso che non lo faranno ancora. Non lo so, io non penso che lo faranno. Però l'idea mia non è che ho dei dati... No, no, è importante fare un po' di speculazione su questo, anche per sentire poi le opinioni vostre, che vi invito, vi ripeto, a lasciare qui sotto nei commenti e vi invito a lasciare like e iscrivervi soprattutto al canale, perché la metà di voi non è iscritta al canale che ci segue, quindi effettivamente non è detto, premete il tasto rosso e iscriviti. E fateci sapere voi che ne pensate, perché questa è una situazione veramente un po' strana, visto che mi pare l'avevamo fatto due settimane fa, il video dove si diceva appunto quando lo riteremo opportuno lo faremo, che suonava molto di sì, forse un giorno quando ci ricordiamo. E invece ora abbiamo questa novità, poco prima poi di un evento importante per questo gioco, cioè il Jameer. Non poco prima, proprio la settimana del Jameer. La settimana del Jameer, cioè allora, quanto è probabile che esploda tutto e non funzioni più? E tra l'altro, quando ci fu l'altra fusione, quella settimana saltarono gli eventi del sabato e la domenica di Legione, quindi è probabile che anche questa volta succeda. Sì, l'hanno già preventivato. L'hanno già preventivato, sì sì sì, questo aspetto. E così si allinearanno, perché adesso sono disallineati. Chi ha la fusione, ha la conquesta la settimana prima rispetto a chi non l'ha fatta, cioè è rimasto sballato. Allora, altra cosa da notare, loro dicono che si inizierà il 13, come vi ho detto prima, ma si finirà intorno al 27 di dicembre. Quindi insomma, il tempo è quello dell'anno scorso. Durante questo periodo, c'è proprio scritto, la Legion Conquest verrà bloccata. Grazie, ci fate fare le vacanze in pace senza rottore di balle. Allora, in realtà sì e no, perché il problema è che la Legion Conquest è uno dei maggiori produttori di medagliette di Legione che fanno comprare il boss e i fiori. Quindi, a parte una piccola raccomandazione, se loggate basta, non avete tanto tempo di sbattere e giocare, però controllate dopo la Conquest, anche se non avete partecipato, che avveriva è uno scrignettino. Quello scrignettino apritelo perché ci sono le medaglie che servono a comprare i fiori a tutti. Quindi non tenete bene 20 forzieri da parte, come qualcuno di Legione Nostra, che ha fatto 15.000 activity points in una botta sola. Perché se li tengono, scusa? Che senso? No, vabbè, ci sta se uno logga e basta, le accumula. Ah, in quel senso sì. Comunque, questa è la situazione all'atto attuale. Cioè, vedremo cosa accadrà. News importante. Io vi ricordo comunque che questa sera saremo in live per l'ultimo giorno di qualifiche con Gray, prima di settimana prossima, che ci sarà la Giammiera Ufficiale. Sperando che funzioni tutto. Io continuo a ribadirla, sta cosa. Anche perché loro, appunto, già si parano un po' il sederino dicendo eh, vi chiediamo scusa se ci saranno casini durante questo, poi vi manderemo la compensation. Insomma, non mi lascia ben sperare. Comunque, io vi invito. Vabbè, magari non ci va come nel SEA, dove è sparita con questo per un anno senza scuse. Vedremo cosa accadrà. Io vi invito ancora una volta a lasciare like e iscrivervi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video e ci vediamo questa sera sul sito viola. Grazie per aver visto questo video. Ciao ragazzi. Ciao.